Buonasera, ciao. A Tango, senti, prima domanda che è quella che faccio sempre a tutti gli ospiti, tu balli, dopo ti sentiremmo cantare, però balli e che ballo sei? Ballo. Preferisci far ballare? Metaforicamente. Sono un manico di scopa, quindi... Balli qualunque cosa. Quello del ballo è un argomento tabù, sono un manico di scopa, quindi non si può nemmeno definire ballo. Mi di meno ogni tanto. Ma è un'altra cosa. Senti, tra poco parliamo anche del tuo ultimo libro su Israele e Palestina. Prima però andiamo alla prima cloche che ci racconta un travaglio inaspettato, perché abbiamo nascosto una foto di Don Bosco, santo, sociale, orgoglio della nostra Torino, perché tu hai frequentato il liceo salesiano Valsalice. Allora, cosa lega il giovane travaglio che va alla scuola cattolica con il temuto direttore del Fatto Quotidiano? Forse il fatto che già all'epoca volevo fare il giornalista e scrivevo degli articoli che leggevo solo io, ovviamente. Me li scrivevo e me li leggevo, me la suonavo e me la cantavo. Per il resto devo ai salesiani di avermi insegnato un sacco di cose, perché diciamo che, per quanto strano possa sembrare, era un liceo gestito da religiosi, da sacerdoti, ma era molto laico come spirito. Lo spirito di Don Bosco era prima buoni cittadini e quindi poi anche buoni cristiani, non viceversa. Santo Sociale. Comincia a fare giornalista a Torino, proprio in giornali cattolici, non solo, tu ti sei sempre definito un liberale, a cui piacevano Chirac, Latacher, Reagan. Come si concilia questo col fatto che oggi il tuo giornale sia uno dei punti di riferimento a sinistra? Sei cambiato tu o è cambiata la politica, la destra liberale? È cambiato tutto, la destra liberale non esiste più, basta vedere chi abbiamo al governo, che di liberale non ha proprio niente, come non aveva niente la destra berlusconiana. È Berlusconi che ha cambiato tutto, ma direi che è cambiato tutto anche nella sinistra. Insomma, io ero fieramente anticomunista quando c'era il comunismo, quando è caduto il muro di Berlino, per me il comunismo è come i cartaginesi, cioè un relitto del passato, è un reperto storico da studiare, ma opporsi al comunismo oggi fa ridere i polli. Oggi i problemi sono altri. Oggi la distinzione negli elettori non è più tra destra e sinistra, è tra vecchio e nuovo, è tra potenti e dimenticati, tra centri e periferie. Questo è quello che distingue gli elettori. Quelli sono valori che stanno ancora nel cuore delle persone, ma che non si vedono più nei partiti. Non riconoscono più nell'etichetta politica nel partito. No, assolutamente. Poi arriva il giornale di Montanelli, diciamo che il rapporto con i maestri è spesso ambivalente, cioè c'è quello che ci hanno insegnato, che facciamo come loro, e quello che invece ci distingue, facciamo l'opposto. Era così anche per te, Montanelli? Cosa vi univa e cosa vi distingue? Ma io quando ero ragazzino volevo fare il giornalista e per giunta volevo fare il giornalista al giornale di Montanelli, quindi ero piuttosto pretenzioso. Tutti mi prendevano in giro perché mi dicevano già è difficile fare il giornalista, figuriamoci poi se riuscirai proprio ad arrivare al giornale di Montanelli. Invece insistendo e stalkerizzando la sua segretaria riuscì ad avere un appuntamento con lui e a farmi prendere prima come collaboratore vicecorrispondente dal Piemonte e poi a farmi assumere sia al giornale sia poi quando ce ne andammo dal giornale per l'ingresso in politica di Berlusconi alla voce di Montanelli. Maestro, maestro per le cose che scriveva, per le cose che gli sentivo dire direttamente o indirettamente, ma non è che si sia mai messo lì a spiegarmi come fare. Quindi più che maestro direi modello, poi non so quanto sia rimasto. Non esistono eredi di Montanelli, questo ci tengo a precisarlo. Chiunque lo abbia conosciuto bene sa benissimo che era una perla rara, era un unicum. Non è mai esistito prima e credo non esisterà mai dopo un altro Montanelli. Senti, a proposito di Montanelli, pare che un giorno dopo aver detto meraviglie del tuo archivio abbia aggiunto, ma è anche una bella inquietudine, il giorno in cui gli chiesi se in quel suo archivio, in cui non consente a nessuno di ficcare il naso, ci fosse anche un fascicolo intitolato al mio nome Marco, cambio discorso, c'era qualcosa anche su di lui o meglio? Mi interessa più sapere com'è sta archivio e soprattutto cosa rispondi a chi ti dà anche sull'onda di quell'archivio del giustizialista e del manettaro? Dunque, quella se l'ha inventata Montanelli. Non è mai avvenuto quel dialogo in quella forma. È vero che quando voleva prendere in castagna qualche politico per le cose dette il giorno prima e contraddette il giorno dopo, mi chiamava e io gli mandavo qualche pezzo del mio archivio che sono poi banali ritagli di giornale, tutto cartaceo, fatto con le forbici, ancora adesso non l'ho mai digitalizzato, quindi ho una marea di cartelline di ritagli che inondano casa mia e il mio ufficio in redazione. Non c'è niente da stupirsi, insomma i giornalisti devono avere un archivio altrimenti non conserverebbero memoria e non riuscirebbero mai a raccontare le puntate precedenti. Questo forse è un danno perché molti ti raccontano l'oggi ma non te lo mettono mai in collegamento con ieri e l'altro ieri e quindi non ti contestualizzano mai le cose e questo appiattisce il racconto giornalistico che invece richiede profondità. Certo, al di là della memoria che è importante non che sia un valore in politica la coerenza, diciamo. Però senti, andiamo a questo punto alla seconda cloche che nasconde invece un tacquino di pelle nera, quello che poi in televisione è diventato il tuo marchio i cui contenuti hanno fatto imbufalire schiere di politici. Allora vediamo una clip di quella che è stata la tua svolta televisiva. È appena uscito un libro, questo libro, intitolato L'odore dei soldi, un libro che fa luce su questi misteri e ne parliamo col primo ospite di questa sera, l'autore del libro, Marco Travaglio. In questo libro si parla di documenti. Ci sono dei documenti che andrebbero spiegati se in Italia le interviste contemplassero delle domande. Il problema è che in Italia abbiamo inventato questo genere letterario dell'intervista senza domanda, almeno quando il politico è l'ospite. Il libro è interessantissimo, è meraviglioso. Tu hai avuto minacce dalla pubblicazione di questo libro? Non ancora. Non ancora, ok, perfetto. Poi fammi sapere. Senti, altro che minacce e querele, quella presentazione del tuo libro in chiesta su Silvio Berlusconi scatenò un putiferio. Tu te l'aspettavi, l'avevi capito subito in quel momento? L'ho capito dopo che è finita l'intervista che abbiamo registrato la sera prima, indifferita, che poi andasse in onda. Prima dell'intervista non sapevo minimamente che cosa Luttazzi volesse chiedermi del libro e fino a dove volesse spingersi in profondità, perché non abbiamo preparata, non sapevo le domande che avrebbe fatto, non ci eravamo mai visti prima. Ci siamo conosciuti dentro lo studio quando ha cominciato la raffica delle domande. Ho capito che sarebbe venuto giù tutto e infatti poi mi beccai otto cause civili per qualche miliardo, perché all'epoca c'erano le lire. Le ho vinte tutte, contro Berlusconi e le sue varie reincarnazioni, Forza Italia, Mediaset, Fininvest, eccetera. Luttazzi sparì dalla televisione subito, poi sparirono anche Biaggi e Santoro che si erano occupati dello stesso tema. Sparì anch'io, molto più modestamente. E credo che questa sia la prima volta che la Rai rimanda in onda un frame di quella trasmissione che per anni era sparita anche dagli archivi. Luttazzi non è mai rientrato e questa è una vergogna. Però appunto io vorrei tornare all'editto bulgaro aggiungendo all'allontanamento dalla Rai di Biaggi, Santoro e Luttazzi anche per questione personale che sparirono anche intere redazioni comprese la sottoscritta. Non solo, perché poi non ce le ricordiamo mai quelle cose, non solo però quella contrapposizione che ha diviso il paese appunto si inasprisce poi per un ventennio. Di quella contrapposizione oggi cosa resta secondo te? Ma rimane inalterato lo spirito intanto del giornalismo di opposizione perché l'unica opposizione l'hanno fatta alcuni singoli giornalisti molto noti perché molto pochi quindi li conosciamo per nome e cognome e rimangono i contenuti perché il berlusconismo anche se è morto Berlusconi si è travasato tale e quale nel melonismo. Non c'è nessuna differenza tra il berlusconismo e il melonismo come disvalori che stanno portando nelle istituzioni. L'unica differenza è che la Melonia a differenza di Berlusconi non ha dei processi perché non è una criminale e questo rende ancora più incomprensibile per quale motivo continui a fare delle leggi contro la legalità anziché a favore. Senti però dimmi ora Luttazzi non è tornato in televisione ma collabora col tuo giornale di Biaggi e Santoro in particolare che mi dici come che l'hai poi ricucito i rapporti dopo la spolverata berlusconiana della sede di servizio pubblico e le divisioni che ricordo sul referendum costituzionale di Renzi. Quelle furono una cosa piuttosto pesante ma ho partecipato alla manifestazione per la pace che lui ha organizzato alla staffetta per la pace qualche mese fa in varie tappe in tutta Italia e per quanto riguarda Biaggi purtroppo non c'è più ma siamo orgogliosi di avere battezzato il Fatto Quotidiano in onore del suo fatto che era il titolo del suo programma. Bravi un applauso ci vuole a ricordare Enzo Biaggi meritatamente. Senti ovviamente la televisione non perdona c'è la dura legge dell'imitazione allora io ti faccio vedere un puzzecchiamento di Marco Travaglio fatto niente meno che da Marco Travaglio vediamo. E' con noi alla TV delle ragazze direttamente dalla sua redazione Marco Travaglio benvenuto ma è vero che vuole leggerci in anteprima l'editoriale che pubblicherà domani? Certo ti dico solo che si intitola Travaglio Asfalta Travaglio cioè? Cioè visto che nessuno ha il coraggio di prendermi in giro ho pensato di prendermi in giro da solo lei attacca se stesso nell'editoriale di domani e sì e speriamo che non mi faccio causa sarebbe il colmo Vedo che ti diverte anche oggi Sabina Guzzanti Certo Molto Sempre La sua imitazione è quella di Ubaldo Pantani perché anche Ubaldo Pantani ne ha fatta una Ah sì abbiamo scelto Sabina tra l'altro epoca governo gialloverde andiamo invece all'attualità politica voglio un tuo commento sui risultati delle elezioni regionali in Abruzzo dopo la Sardegna e che segnale è secondo te per maggioranza e per opposizione tra campo larghissimo e alleanze invece PD 5 Stelle Ma io ti dico quello che ho detto dopo le elezioni in Sardegna le elezioni regionali riflettono soprattutto la situazione di quella regione in Sardegna c'era una candidata così nuova con una narrazione e un'esperienza personale così affascinanti e dirompenti il cervello in fuga che torna nella sua regione a lavorare fa politica e questa stessa figura non l'hanno individuata i partiti del progressisti PD 5 Stelle e gli altri in Abruzzo dove c'era una figura senz'altro rispettabile ma diciamo meno affascinante e meno dirompente aggiungo che probabilmente gli abruzzesi non erano così arrabbiati per il malgoverno della destra quanto lo erano i sardi aggiungo che avevano delle liste che evidentemente hanno attirato più voti aggiungo che evidentemente Marsilio è stato più bravo di Truzzo anche perché Truzzo faceva il sindaco male a Cagliari e si improvvisava governatore o presidente mentre invece il presidente Marsilio evidentemente ha giocato meglio le sue carte per quanto riguarda l'opposizione secondo me deve rinunciare a questa idea messianica può aver allontanato alcuni elettori questo sicuramente sicuramente l'idea di votare un candidato che era sostenuto anche da Renzi e da Calenda non è piaciuto a una parte del popolo della sinistra e soprattutto del popolo dei 5 Stelle questa idea del campo larghissimo è un'idea assurda non ha alcun senso dipende dal candidato che trovi se è un candidato come la Todd se è un candidato nuovo ma nello stesso tempo con un curriculum credibile allora può funzionare perché la gente di queste formule non gliene frega niente soprattutto nelle elezioni locali badano al sodo quindi io poi sono dell'idea che quando va a votare un cittadino su due come è avvenuto in Sardegna e adesso purtroppo anche in Abruzzo o rinunciamo a far votare l'altra metà del cielo oppure ci domandiamo come fare a riportarli alle urne e per riportare alle urne la gente bisogna esaltare le differenze le diversità tra i partiti non fare delle ammucchiate l'unica soluzione che io vedo almeno per le politiche è il ritorno al proporzionale con la preferenza unica quindi neanche un'alleanza strutturale PD 5 Stelle uscendo dal campo larghissimo è mortifera e mefitica ciascuno deve presentarsi agli elettori con le sue caratteristiche le sue diversità le sue peculiarità gli elettori scelgono e poi alla fine si va alla conta e si fanno le alleanze in Parlamento con quelli che sono più vicini o con quelli che sono meno lontani la politica è fatica è compromesso è mediazione quest'idea che tac la sera c'è già il governo è un'idea assurda che allontana la gente che non ha male ammucchiate non allontana però gli elettori di centrodestra perché su quello sono molto più fedeli e compatti ma sai quanta gente di centrodestra è rimasta a casa poi erano di meno e quindi li abbiamo votati di meno ma certamente vota la metà Dalla politica nostrana andiamo alla terribile crisi in Medio Oriente al tuo libro Israele e i palestinesi in poche parole dal 7 ottobre assistiamo aggiungo con orrore a una strage di innocenti prima israeliani ora palestinesi nella striscia di Gaza tu ricostruisci in breve quella che chiami la guerra dei cent'anni vedi qualche spiraglio per una soluzione? No al momento no cioè per carità ci possono essere e speriamo che vadano in porto i negoziati per un cessato il fuoco ma il cessato il fuoco non è altro che una sospensione di una guerra che poi se non si va alle radici di questo conflitto può esplodere in qualsiasi momento come succede da cento anni per questo ho sentito l'urgenza a novembre di mettere giù un libro un bignami perché se uno non sa quello che è successo prima non capisce quello che succede adesso e come si potrebbe risolverlo in futuro guarda è la stessa situazione della Russia e dell'Ucraina la tregua è un toccasana per i civili perché la smettono di essere ammazzati per i soldati che in Ucraina sono la maggior parte delle vittime a differenza che a Gaza ma poi bisogna negoziare come ha detto Bergoglio in queste ore ma sì se non si garantisce la sicurezza degli ucraini ma anche dei russi che si sono sentiti minacciati dall'espandersi della Nato negli ultimi vent'anni se non si garantisce la sicurezza dei palestinesi nel loro stato ma anche di Israele in un territorio così piccolo io l'ho scritto nel libro vi rendete conto che sono due popoli di 7 milioni e mezzo di persone che dovrebbero convivere in un territorio che corrisponde al Piemonte e alla Valle d'Aosta a Gaza ci sono due milioni di persone e più stipati in un decimo della Valle d'Aosta rendiamoci conto che quando il territorio da spartire è così piccolo bisogna che ciascun popolo si senta sicuro nel dare spazio all'altro sapendo che l'altro poi non userà quello spazio per attaccarlo e questo vale per tutti e due i popoli ecco perché sono innanzitutto gli israeliani e i palestinesi che devono convincersi della convenienza del vivere in pace l'uno vicino all'altro e quasi sopra l'altro fino a quando non lo capiranno loro non saranno gli americani che decidono di prendere Abu Mazen para cadutarlo a Gaza e risolvere il problema sono loro aiutati da noi che devono arrivare a questa soluzione senti alleggeriamo a questo punto un po' il clima con l'ultima cloche dove abbiamo nascosto un microfono perché tu sei un grande appassionato di musica e di karaoke e quindi vediamo una delle tue interpretazioni mi vendo la grinta che non hai in cambio del tuo inferno ti do due ali sai no 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 mi vendo un'altra identità ti do quello che il mondo distratto non ti da qualcuno ha mai provato a comprarti eh no io ho dei colleghi che hanno cercato di comprarli hanno detto di no e così almeno hanno potuto saggiare la loro incorruttibilità io non lo posso sapere se sono incorruttibile perché nessuno ha mai provato a comprarmi a me di solito dai giornali mi cacciavano anziché chiedermi di entrare tant'è che poi alla fine abbiamo dovuto fondare il fatto quotidiano proprio perché non sapevamo più dove scrivere senti visto che di solito tu il karaoke lo fai dopo cene con amici e conoscenti io voglio assolutamente sapere chi preferiresti come commensale secco tra Calenda o Renzi come commensale non come cantante di karaoke poi magari canta anche qualcosa però come commensale ma forse se uno proprio ha la pistola da tempio e deve scegliere Calenda perché l'ho visto un po' più abbassare la cresta rispetto all'altro galletto cioè si è un po' ridimensionato ha capito che deve come diciamo a Torino tanto siamo fuori dalla fascia a Torino si dice pisapicurt cioè fai la pipì più breve più corta gli elettori lo hanno un po' ridimensionato e quindi ha assunto un mood un po' meno arrogante di un tempo quando si comportava come se avesse il 60% dei voti e sempre il 3 o il 4 aveva quindi sicuramente sarebbe meno irritante lui quindi Calenda della Meloni sappiamo che andavi a pranzo quindi Salvini o Tajani nella preistoria con Giorgio Meloni però adesso Salvini o Tajani sicuramente è una come persona è molto simpatica Salvini o Tajani oddio mannaggia Tajani l'ho conosciuto quando faceva il giornalista al giornale alla redazione romana quindi magari quindi ti conviene Salvini almeno lo conosci meglio in memoria dei vecchi tempi forse Tajani siamo anche i Juventini se non ha cambiato anche lui squadra perché sai che quelli che entrano in Forza Italia diventano tutti milanisti però adesso non c'è più Berlusconi Berlusconi non ha più il Milan quindi no forse Tajani senti Conte o Grillo Grillo perché è un sacco di tempo che non lo vedo e non lo sento mi farebbe piacere farci due chiacchiere non ha gradito certe mie critiche quindi ci siamo persi di vista senti chiudiamo in bellezza la bionda Scarlett Johansson o la Brunelody Elody perché parlo malissimo l'inglese e quindi a Scarlett Johansson avrei un sacco di cose da dire ma non saprei come dirlo vabbè te la sei cavata con l'inglese diciamo grazie a tutti grazie a tutti